Salve a tutti Siamo tornati su Mobidone Noi giocatori No Noi giocatori senza animo Modiglia Insomma è una mappa di Crysis 3 Abbiamo un nuovo dispositivo Chiamato S5 Nero Nero no perché c'è di Nero Potete acquistarlo, questo no ha la modica cifra di 300 euro Guarda che bella mappa Allora cosa dobbiamo dire di questo gioco Noi siamo a scuola Noi siamo a scuola Quindi nel frattempo Il telefono è fluido Non posso dire che sono difficoltà Non posso dire che non possiamo vedere Per quanto riguarda la qualità Diciamo alto Ci troviamo in un 6-5 Nero Fateci sapere se ne volete altri Questo è il primo Durante la ricazione ne faremo altri